Ciao ragazzi e benvenuti con un nuovo istituto di Imperazzo Crew E oggi siamo ritornati con un nuovissimo video qui dal Brasile, direttamente dalle dune della Joachina Questa è la mia casa, mia casa, mia stanza, mio appartamentino affittato con Airbnb Di fronte alle dune e dall'altra parte c'è il mare, adesso ci andiamo Ma prima di iniziare e farvi vedere tutte le cose dovete fare una cosa per me Dovete intanto iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, premi la campanella Poi, 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 non ci vedo, mi sono dimenticato gli occhiali E poi andare sul canale Viola, quindi andare su Twitch e mettere il follow Tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 23, 23.30, dipende Sarò live su Twitch Guardate che roba Guardate che spettacolo Ci sono delle onde clamorose qua, guardate che bello Che spettacolo Che spettacolo Guardate che spettacolo Andiamo a farci una bella caipirigna Guardate che spettacolo Guardate che spettacolo Sì, per il barriero. Sono bruciato, bruciato tutto. Abbiamo pure bevuto un po', guarda il bel cappello che si è comprata. Abbiamo bevuto un po' di caipirinha. Adesso... Cinque. Come si chiama in italiano? In italiano è cinque. Cinque. Cinque, come si chiama in caipirinha? Caipirinha è caipirinha? Cinque caipirinha. Adesso andiamo in piscina. Sanpei. Pescatore grande, orecchia sventola. Eita, il cara non ci sta in. Mio Dio! Tentò subì, ma non lo consigliò. Siamo arrivati a Jureré Internazionale. Sto con la GoPro, quindi l'audio non sarà il migliore. Siamo arrivati a Jureré Internazionale. Siamo arrivati a Jureré Internazionale. Siamo arrivati a Jureré Internazionale. In espectro. Siamo arrivati a Jureré Internazionale. buongiorno buongiorno ormai sono le 11 e 20 quasi dorme fino a tardi tapioca con frittata e formaggi prepariamo tutte le cose perché dobbiamo uscire dobbiamo andare da un'altra parte qui nel frattempo è pieno guardate che roba tutti che scendono con gli snowboard invece di fare snow fanno cose sulle dune quali vendo non so come si chiamano e fra poco andiamo lì dai proviamo un attimo fa qualche ripresa da vicino non penso di affittarmeli solo per scendere una volta fa troppo caldo eccoci qua come promesso stiamo salendo sulle dune però fa troppo caldo ragazzi troppo 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 caldo chissà quanto brucerà sta sabbia ne andiamo però a fare qualche foto ecco infatti non è snow ma è sandboard mamma mia il sole brucia la sabbia brucia tantissimo raga fa troppo caldo la sabbia scotta intanto ci andiamo a fare le foto grandissima idea quella di fare le foto a mezzogiorno 30 abbiamo fatto un po di foto di sopra non so come fanno perché non so come fanno fa troppo caldo c'è la sabbia è tipo carbone ardente c'è una roba clamorosa e non so come fanno questa scendere fino a giù e risalire cioè io non riesco manco a camminare qua normalmente infatti io manco mi avvicinerò manco salgo la sopra perché troppa strada ragazzi siamo arrivati a giù e re internazionale adesso stiamo andando sulla spiaggia abbiamo da bere fra poco viene la pioggia là arriva la pioggia guardate dietro il tempo regà la il tempo qua dietro buio fra poco e uscirà l'impossibile tocca tutti stanno scappando dal mare tutti 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 allora ragazzi lui si chiama ciavo si è fatto 12 ore di macchine per aereale fino a qua 12 ore di calcio esattamente 12 ore e un po che c'è qua dentro guardate non dà un'aglietta in sotto che non gioca il giulino ok 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 abbiamo beccato il panico tutto allagato la botte forno a legna pizza italiana non si vede niente adesso andiamo a fare un churrasco esattamente andiamo a mangiare un po di carne quindi adesso andiamo a comprare hoi 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 Grazie E' veramente buona perchè lui Lui E' bravissimo a fare il churrasco Vi presento un po' di persone Dai, si presenta, por favor Allora ragazzi, siamo qua insieme Un po' di amici Abbiamo mangiato della carne Coração Vi piace il cuore? Coração Qua è finito praticamente E' rimasto soltanto tre salsicce E' bravo? Volevamo invitarsi ragazzi A mangiare un po' di carne qui in Brasile? Venite in Brasile a mangiare la carne Dai ragazzi E' un invito Un invito così Cioè Siete tutti invitati qua in Brasile Dai ragazzi, io vi saluto Adesso me ne vedo a casa E ci sentiamo più tardi Ciao, 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 ciao Prego! Ciao Come al solito mi dimentico di fare la chiusura del video Quindi mi raccomando Iscrivetevi al canale Lascia i tanti like E ricordatevi che tutte le domeniche alle 10.30 del mattino C'è un video nuovo Quindi premete la campanella in modo da non perdere nessun altro video E mi raccomando Primo link in descrizione Seguitemi sul canale Viola Tutti i giorni dalle ore 20.20.30 Sono live Tranne il sabato e la domenica Perché devo registrare il video per la settimana dopo Grazie ancora per la visione Vi saluto Vi ringrazio Vi do un grande, grandissimo abbraccio E al prossimo video Ciao 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 Ciao